Le vede queste X? Sì, certo. Sono le telecamere della videosorveglianza di Via della Fonte. Purtroppo alle 20.23 sono state manomesse, ma hanno continuato a registrare l'audio. Infatti per qualche secondo si sente il rombo di un motore. E poi va via anche il sonoro. Forse è proprio in quel momento che è partita una corsa. L'incidente di mio marito avviene alle 20.45. Il giorno dopo, a due chilometri dall'incidente, viene ritrovato un uomo. Quest'uomo viene ricoverato nel mio ospedale. Scusi, lei pensa che ci sia una relazione tra i due casi? Non lo so, però magari quest'uomo ha visto qualcosa ed è per questo che l'hanno buttato nel dirupo. Mi sembra un po' fantasioso, non crede? Si chiama ipotesi, commissario. Altrimenti sarebbe una prova. Beh, è sempre la risposta pronta. Me la dà la registrazione? Per farne cosa, dottoressa? C'è solo il rombo di una macchina per qualche secondo e poi le indagini sono state archiviate. E il dolore non si archivia mai, commissario. Venga. 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 Venga.